Quest'estate non si dorme, me la bevo come un cocktail Questo ritmo che mi muove, i problemi sono altrove Che cuffie sulla testa, viaggio sotto l'ombrellone Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve Uscire e fare le sette E voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore Voglio ballare con te, soltanto con te Non chiedo la luna, ma ballo con te Lasciamoci tutto alle spalle io e te Fino a che nasce il sole Spengo tutto per due ore Che mi scorda anche il mio nome Bevo birra con limone Senza ghiaccio per favore Andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover Scutiamoci la pelle e poi cambiamoci colore Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve Almeno fino a settembre E voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore Voglio ballare con te, soltanto con te Non chiedo la luna, ma ballo con te Lasciamoci tutto alle spalle io e te Fino a che nasce il sole Le giornate così lunghe Noti sempre troppo corte Che ti svegli sulla spiaggia Col rumore delle onde E mentre la notte finisce Dimmi che male c'è Se mentre ballo con lui Io penso ancora a te Ho voglia di andare più forte Non ci basterà questa notte Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore Voglio ballare con te, soltanto con te Non chiedo la luna, ma ballo con te Lasciamoci tutto alle spalle We talk for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay And even getting a taxi Kissing the backseat Tell the driver make the radio play And I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade For somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say boy, let's not talk too much Grab all my waist and put that body on me Come on now, follow my lead Come on now, follow my lead I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body 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 Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you Come on, be my baby, come on Come on, be my baby, come on I'm in love with your body I'm in love with the shape of you Buongiorno a tutti Rieccoci con Vox Populi Un programma di Jenny Blefari Con Antonelli Italiano Faremo un viaggio questa settimana Nell'ospedale di Locri Quindi nella sanità della Locri Quali sono le sue criticità Quali sono le sue potenzialità Quali sono i problemi che si sono riscontrati Negli anni e soprattutto Che futuro avrà il nostro ospedale E seguiteci Naturalmente ascolteremo la voce del popolo Diciamo che forse Ecco, la Commissione straordinaria Ha avuto il pregio di individuare Non la mia persona Ma di individuare un reoro referente sul posto Perché la persona Il funzionario prefettizio sul posto Ha la possibilità effettivamente Di verificare quotidianamente Quali sono le anomalie E anche di porre rimedio ad esse Insomma, ecco Tra i tanti problemi che si sono affermati In questi anni La carenza di personale Però in questi giorni Ci sono stati dei cambiamenti Ce ne può parlare? Sì, sono stati avviati dei bandi L'ultimo di questi giorni Fa riferimento a 65 Un concorso per 65 posti Di dirigente medico 25 dei quali Per l'ASP intera 25 dei quali interesseranno Il presidio di Locri E questo capisce Che darà ossigeno Ovviamente A questo ospedale È importantissimo Per l'utenza Perché il bacino Dell'utenza È notevole Di Locri Quindi Diventa vitale Questa Questa soluzione Dell'ASP Dottore Una situazione dura Anche a oncologia Un anno fa Mancavano posti letto E addirittura Deflussori C'è stata un'emergenza Perché non c'erano I deflussori Ambrati E com'è la situazione Oggi del reparto? Ma diciamo Tutti i reparti Stiamo cercando Di potenziarli Di migliorarli Con Ovviamente Con le risorse Che con sé Siete informati La commissione Ha proposto Il dissesto Quindi Ovviamente La situazione Non è rosea Per quanto riguarda Un po' Tutta la sanità Il comparto sanitario A livello nazionale Ed in particolare Questo dell'ASP Di Reggio Calabria Però Ecco Nonostante tutto Si sta cercando Di creare Quelle soluzioni Possibili Legittime Che consentiranno Sicuramente Di assicurare Servizi adeguati Della sanità Un luogo comune Sfatiamolo È mai stato A rischio Chiusura All'ospedale Di Locri Come temevano I cittadini Può chiudere Un ospedale In un centro popoloso Come la Locri E se sì Che cosa accadrà Poi ai cittadini Dove dovrebbero Rivolgersi Ma guardi Io mi permetto Ripeto Sono qui Dal 25 Di maggio Di giugno Scusi Di maggio Perdono Dal 25 di maggio Io lo escluderei Categoricamente Perché L'ospedale Di Locri Mi sono reso conto Dopo un mese Dal mio insedimento Mi sono reso conto Che esprime Ed eroga Dei servizi Veramente Di qualità Quindi sarebbe Veramente Impensabile Io non ho sentito Questo Sono un po' Scettico Che possa arrivarsi A questo Perché Credo che invece Vada potenziato Vada assicurato Un servizio Di qualità Quale In parte Sta già esprimendo Faremo un viaggio Nel reparto Di medicina Dove il dottore Suragi Mi parlava Di delle eccellenze Ce ne parlerà Lui personalmente Altre eccellenze All'ospedale Di Locri Ma guardi Io ne ho viste Parecchi Di eccellenze Mi viene in testa Nell'immediatezza La ginecologia La neotologia La gastroenterologia Pur nel piccolo Il potenziale è altissimo Insomma Stiamo dotando Anche di strumentazione Che consentirà A loro Anche di fare Delle diagnosi Di qualità Di diagnosi Anche all'avanguardia Posso dire Con piccole cose Si può fare tanto Radiologia Aveva dei problemi Con i macchinari Anche per fare un'attacca Bisognava spostarsi A Polissena Questo problema Si sta risolvendo Si è in fase Di risoluzione Perché è chiaro Che la carenza Di medici La carenza Di strumentazione Che riguarda Un po' Tutto il territorio Nazionale Però a mio parere Come dicevo prima Con una sana E oculata Amministrazione Si possono trovare Soluzioni Assolutamente Assolutamente adeguate Dottore L'ultima domanda I commissari Lei ne porta a voce Sono fiduciosi C'è speranza Di tornare A essere un'eccellenza Con la nostra Struttura ospedaliera Guardi Io le posso solo dire A livello personale Che conosco i commissari Da un mese Ho visto loro Tanta 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 Buona volontà E tanta capacità Sono delle tre Veramente funzionari Del prefettizio Eccellenti Io ho fatto 20 esperienze Commissariali Le dico Che sicuramente Questa commissione È straordinaria Tra le migliori Commissioni Con cui ho potuto Collaborare Quindi le posso garantire Che sicuramente Daranno un risultato Positivo Siamo al reparto Di pediatria Dell'ospedale di Locri Con il dottore Criaco Dottore Innanzitutto Le chiedo Chi è il primario Non abbiamo primario Allo stato attuale Diciamo Non abbiamo primario Cerchiamo di collaborare Quelli che siamo rimasti Ma non abbiamo primario Dottore Quanto è importante Pediatria Per la Locride Che utenza c'è Che affluenza Quanti parti Durante l'anno Penso che è importante I numeri lo dicono Diciamo Ci sono mille parti Ogni anno Quindi teoricamente Già questo è sufficiente Per Per dire che è un reparto Che lavora E che funziona Nonostante tutto Funzioni Lei è qui da tantissimi anni È un dottore molto stimato Gettonatissimo In questi anni Che criticità si sono manifestate Nel reparto E qual è la situazione attuale Penso che fondamentalmente Diciamo Il numero Diciamo I dirigenti Via via Sono sempre diminuiti E non sono mai sostituiti Mai Quindi abbiamo un numero Di dirigenti Diciamo che non sono Diciamo Non riescono Per il tipo di lavoro Noi dobbiamo considerare Che abbiamo anche Un punto nascita E non siamo nemmeno La metà Del numero Che doveva svolgere Questa funzione E invece La situazione attuale Ci sono dei cambiamenti C'è speranza Che venga Per quello che lei sa Che vengano nuovi dottori Che aumenti il personale C'è un'aria nuova In questo momento Speriamo che le cose Migliorino Sembra che si Si sta lavorando In questo senso Nuovi commissari Speriamo bene Io sono fiducioso Perché no Lei che turni fa Intanto I commissari Si sono insediati Dì da poco Sono tre mesi Quindi ancora Non hanno avuto Il tempo Di assestare La situazione E di risolvere Tutte le criticità Che hanno trovato Quindi Che cosa succede In pediatria Quanti medici siete Che turni fate E ecco Che situazioni Si pongono Durante il giorno Durante la notte E pure Allo stato attuale Siamo proprio in sofferenza Perché siamo rimasti Siamo quattro medici Di cui una Dell'elimitazione Quindi a coprire Diciamo Il turno Regolare Compreso dalla notte Siamo solamente in tre Questo inevitabilmente Porta Settemanalmente Ognuno di noi A coprire tre notti E questo non significa Fare solo le notti Ci sono da coprire Anche i pomeriggi E le mattine Il reparto Mi raccontava prima Se non fosse stato Per la determinazione Di questo staff Rischiava di chiudere Invece Rischiava di chiudere Comunque Ha dovuto Attutire dei colpi Invece è stato Grazie alla determinazione Del personale Dei medici Che si è andato avanti Che si è andato avanti Bene Perché Diciamo È uno dei reparti Più accreditati Dell'ospedale di Locri Insomma Racconti questa storia Il numero È sicuramente Insufficiente Il numero Diciamo È troppo scarso Per È chiaro Che se non c'era Il sacrificio Di tutti quanti Non Non si poteva Arrivare a questo punto Assolutissimamente Mi raccontava Delle eccellenze Che ci sono In questo reparto No Non parlavo di eccellenze Parlavo che Ognuno di noi Si occupa di qualcosina Diciamo Almeno prima Adesso è un po' Più limitato La situazione è un pochettino Ristretta Perché non abbiamo più La possibilità Ma ognuno di noi Si occupava di qualcosina Che durante la settimana Svolgeva Adesso in questo periodo È un pochettino Più difficile C'è un appello Che vuole fare ai commissari? No Io sono ottimista Devo dire Sono ottimista E spero che Che le cose cambiano In bene Che arriveranno Forze nuove A darci una mano E che hanno la volontà Di lavorare Per questo reparto Per questo ospedale Tutto qui Come abbiamo fatto Fino adesso Siamo nel reparto Di medicina Con il dottore Suraci Dottore lei In questo momento Ha le funzioni Di un primario? No Non ho esattamente Le funzioni di primario Ma sono in sostituzione Qua del primario mancante Nell'attesa Che venga espletato L'articolo 18 Questa è la situazione Quindi mi sto barcamenando Ho fatto i turni Sempre cerco di tappare i buchi Il personale mancante Abbiamo grave carenza di personale Però devo dire Dopo che è venuto Il ministro Che si sono insediati E i nuovi La triade Abbiamo avuto Il nuovo personale Infatti ci sono Degli infermieri nuovi Per me Devo parlare bene Di queste persone Infatti se mi ha visto Sui giornali Con la grilla Io ho detto Alle problematiche Inerenti che c'erano E con il generale Cotticelli Ha detto Mi ha tranquillizzato Stia tranquillo Dottore Che faremo tutto il possibile Per valorizzare la medicina Ed è quello Che io mi aspettavo In effetti Diciamo È arrivato personale nuovo Però i medici Non sono arrivati Perché quella Ha la carenza più grave Perché noi dobbiamo fare Un turno interdivisionali Che quindi sono pesanti Un medico deve vedere tre reparti E di conseguenza Lavoriamo con molte difficoltà Molti medici sono esentati Molti hanno la 104 Quindi Quello che io chiedo Insomma Mi sono Più volte Infatti ho fatto delle lettere Perché mi mandassero del personale In modo particolare Oss Perché la medicina Rappresenta Il reparto portante Dell'Asp Tutto finisce qua Medicina Dalle moragie digestive Sono pazienti allettati Sono pazienti Che devono essere cambiati In continuazione Dobbiamo garantire un servizio Livelli di lea In modo adeguato Abbiamo anche novantenni E quindi la problematica È proprio questa Che vanno cambiate In continuazione Un osso non mi può bastare In turno Ce ne vogliono almeno due o tre Oltre gli infermieri Perché il carico è notevole Sono pazienti spesso gravi E' questo che magari Non viene recepito Per me Questo è il reparto più grosso Perché avremmo dovuto avere 35 posti letto Immaginatevi gli altri reparti Quanto hanno La neuronia 10 La pneumonia 10 18 ridotti Quindi tutto finisce qua Addirittura abbiamo avuto Anche ricoverate pazienti Con fratture di femore Perché non avevano il posto E l'hanno aggiunta da noi Il che non lo trovo Congro Sta cosa Però noi ci dobbiamo dare Da fare Io con la testa che ho Che cerco di darmi da fare Perché insomma Qua è importante Qualcuno Secondo me Con la specializzazione Ho insegnato all'università A me piace la mia professione Faccio di tutto Per accontentare Quando viene una persona anziana Che non è prenotata Al cup Che non ha visto E non mi sento Di mandarle indietro Perché magari il cup È pieno Dico Tu hai bisogno della vista Farò di tutto Vieni domani O te la faccio Per me questo è importante Essere a disposizione Del pubblico Non lamentarsi Ma cercare di reagire E fare le cose in positivo Ed è questo che io vedo Se volete vi faccio vedere Cioè questo che volevo dire La cosa che abbiamo costituito È molto importante Perché noi Questi ragazzi Che vivono in questa situazione Dalla nascita Spiego dottore Lei mi parlava Di delle eccellenze Ci sono delle eccellenze Di cui si parla poco Che fanno capo Al reparto di medicina A che cosa si riferisce? Si riferisce al centro All'unità funzionale multidisciplinare Per la talassemia Questa è un'equipe multidisciplinare Che tiene conto Di diversi specialisti Che sono coordinati Dalla dottoressa tedesco Che si occupa di questi ragazzi Abbiamo istituito anche Una rete di Whatsapp Si chiama Amici di Sangue In cui questi ragazzi Se hanno bisogno Qualunque ora Giorno e notte Sono a nostra disposizione Io e la dottoressa Comunichiamo col Whatsapp E ci impegniamo Mediante percorsi rapidi Per esempio Qualcuno alla calcolosi Ci impegniamo Affinché vengono eseguite Tutte le prestazioni Entro 24 ore Questi ragazzi Devono stare Ogni 21 giorni Fare terapia trasfusionale La difficoltà che abbiamo È che spesso Non c'è la disponibilità Del sangue adeguato Invece di tre sacche Ne devono fare due E quindi di conseguenza Succede che questi Devono tornare La settimana dopo E io non l'ammetto Che dei ragazzi Che ogni 15 giorni 20 giorni Si pungono Devono pungersi ulteriormente Ho fatto delle lotte Anche per questo Perché io ho cercato Di testare la loro vita Con i fili più preziosi possibile È quello che dico Noi il problema loro È che hanno anche Accumulo di ferro Legato alle trasfusioni Quindi dobbiamo fare Una terapia Che l'ante specifica Con i piani terapeutici Li mandiamo al CNR di Pisa Con delle pubblicazioni nostre Per valutare L'accumulo di ferro E valutare esattamente La terapia Con i nuovi farmaci Che vengono fatti Tipo Exeggia Ed altri Per migliorare La qualità di vita Anche se un paziente Che ha osteoporosi Diabete E varie patologie E qui qua C'è un solo medico Un solo infermiere Per tutto questo E quindi abbiamo creato Un reparto Noi che se volete Vi faccio Ecco Andiamo a visitarlo Sì faccio vedere Non è che È quello che abbiamo fatto Noi Molte spese nostre Sembra diverso Però Ecco Abbiamo messo Delle piccole cose Anche a comprare Poche cose Abbiamo fatto A nostre spese Però l'abbiamo valorizzato Perché in modo che Abbiamo fatto Una sala di riunioni Per loro Dove si riuniscono Abbiamo avuto Delle donazioni Un frigorifero Da quella parte Vi faccio vedere Le stanze Ecco Abbiamo avuto Diverse targhe E riconoscimenti Perché questa è la stanza Liene Dare la qualità di vita Accettate donazioni Diceva No nel senso Che qualcuno Ha voluto dare Per esempio Un frigorifero E non l'abbiamo accettato Altre cose Abbiamo raccolto I soldi Noi Abbiamo comprato Un televisore A schermo piatto Qua Quindi Da questa parte Nella sala Delle trasfusioni In modo che Loro durante le trasfusioni Possano avere Un ambiente tranquillo E vivibile Ecco Da Con televisore 100 euro L'abbiamo comprato Che dobbiamo fare Se uno non si dà da fare Quella è la cosa importante E tutto non può avvenire Noi cerchiamo Di Loro vogliono stare uniti Perché appunto Sono Loro i ragazzi I ragazzi Sì ragazzi Abbiamo il più piccolo Di 18 anni E l'altro La più anziana Di 60 E quindi siamo riusciti Anche a fare Perché di solito I talassemici Non raggiungono questa età Ma con le nuove terapie Geniche Abbiamo mandato qualcuno Dal professore Locatelli A Roma Con cui abbiamo Un collegamento diretto Potrebbero fare La terapia In modo particolare La terapia genica In cui viene presa Una parte del loro Sangue Del loro midollo Viene modificato Reinoculato Modificato In modo che Produca l'emoglobina normale E quindi Poi ci sono in vista Anche nuove molecole Tipo il Luspartercef Per ridurre la frequenza Delle trasfusioni Noi cerchiamo Di essere collegati Con questi centri Per cercare Di migliorare La qualità di vita Abbiamo fatto L'ultima pubblicazione Che è stata Pubblicata Ad Amsterdam Discussa Al 13 Al 16 luglio Sui ragazzi Talassemici Un'altra cosa Che abbiamo fatto Siamo riusciti a tutti Loro a eradicare L'epatite C Con canali preferenziali Fibroscanna E gli altri In una giornata mezza Li mandiamo In un centro Che è sempre Dell'ASP Quindi non costa niente Non devono pagare niente E quindi abbiamo eradicato L'epatite Più di questo Cerchiamo di insistere Con qualcuna Che è ancora arrestia Però Dobbiamo Abbiamo seguito Una talassemica In gravidanza Data la luce E una bellissima bambina Per noi sono soddisfazioni Quando è un momento di festa L'albero di Natale Loro vengono Sistemano tutto E quindi Sono felici Sono contenti Un appello ai commissari Appello ai commissari Stanno lavorando bene Ho visto che hanno fatto Degli avvisi per medici O perlomeno dei concorsi Che è una cosa importante E che noi in medicina Non lo so Secondo me il numero Chiuso in medicina Ha fatto danno Perché in questo modo Non si trovano medici Vanno deserti Da noi in medicina Nel reparto è quello Io se devo fare una diagnosi Devo stare molto Nel senso che ho problemi Con la radiologia Se mi viene un paziente Dove lo mando a fare un esame Che è complicato Spesso non posso Ottenerlo subito E io Scusatemi ma mi arrabbio Perché voglio sapere subito Quello che è il paziente Non posso aspettare Due o tre giorni Oppure supplicare Fatemi st'esame Alla radiologia Io vorrei tutto e subito Perché se l'ammalato Ha diritto Ha diritto di essere trattato Nel migliore dei modi Questo è il problema Poi sarà che io sbaglio Sarà la mia Io sono così Io sono come diceva Socrate Che ognuno deve conoscere Guardare dentro la propria mente E non lamentarsi Quando la tendenza Si lamentano tutti di ogni cosa Io ho questo Io ho questo Io voglio fare il primario A me non mi frega niente Di tutto questo Ho i titoli per fare il primario Ho partecipato all'articolo 18 Ho fatto tutto Se deve essere fatto l'avviso E ho diritto io Vada Ma se no non me frega Il problema è curare gli ammalati Tanto tra 7-8 anni Andrò in pensione Però penso di avere costruito Qualcosa di positivo Per i miei figli Per gli altri Per questi ragazzi Che ci adorano Pensi che la dottoressa Che è stata qua Ha avuto un problema Frattura vertebrale È mancata per alcuni mesi È rientrata anche dopo Col busto ortopedico Per loro Loro sono venuti a trovarla a casa Hanno fatto una festa grandissima E queste sono le soddisfazioni Più grandi Di cui io mi commuovo Quando lo dico Dottore le chiedo un'analisi Lei è qui da tanto tempo E abbiamo scoperto 30 anni più 7 Sono 37 anni Quindi ho visto brutto e cattivo tempo Però ora sono come lottatore Perché giustamente Mi sono Mi sento il peso Di far migliorare Questo reparto Ho cercato di far venire un medico E qua mi sono battuto Perché Però volevo che Ci mancano delle strumentazioni Un ecografo Altre cose Perché abbiamo il dottore Geratti Che è anche un bravissimo Ecografista E quindi noi Se dobbiamo fare un'ecografia Mi è difficile fare Radiologia È impossibile Ce la fa lui E quindi penso che sia una cosa utile Che chiedo di più questo Condizionatori nella stanza del primario Un anno non funziona Che devo fare? Abbiamo fatto di tutto Condizionatore Speriamo che arrivi Magari li mettono nei posti dove non serve Non lo so Magari in una stanzetta Nella stanza del primario Dove noi facciamo le dimissioni Le uscite mancano Va bene Dottore Le chiedevo l'analisi Allora lei è qui da 37 anni Abbiamo scoperto che In alcuni periodi L'ospedale di Locri Alcuni reparti Sono andati avanti Proprio per la volontà di medici Come lei Che hanno dedicato tutto Non hanno guardato L'orario di lavoro E si sono dedicati ai reparti Lei a cosa è imposto? Il disservizio L'accumulo di questi problemi In questi 37 anni Che cosa ha portato L'ospedale di Locri A mettersi al centro Di una cronaca quasi nera A un certo punto? Non lo so Io penso Che la cosa La stessa cosa Che ho detto Quando è venuto il ministro Grillo E ho detto Lei è la prima persona Che viene qua A rendersi conto Di persone Di quello che è successo Perché nessuno È mai venuto qua A rendersi conto Di vari amministratori A rendersi conto E vedere il reparto Come si lavora Le difficoltà che abbiamo Un solo osso Un solo infermiere Certe volte che non ha il cambio Con una sofferenza notevole Io non posso stressare Il mio personale Poi abbiamo anche un problema Non abbiamo una caposala Quindi la caposala Stiamo andando così avanti Perché per la volontà nostra Io posso dire Mollo tutto E ti saluto Che io devo fare i turni Poi c'è qualcuno Che è in malattia Che è sentato dei medici Quindi siamo due o tre medici Che devono avere più reparti Sacrifici Fare i giri Malati gravi E questa è la situazione Io mi sto rimboccando le mani Io chiedo più personale Facendo l'analisi Secondo me Se ci fosse del personale Che ha la volontà di lavorare Ma non del personale Che viene solo per lo stipendio Non credo che lo facciano Sono positivo Nei confronti di tutti Però ho bisogno di medici Di ossi in particolare Infatti ho fatto diverse lettere di richiesta Che sono finite a niente Solo questa Che ho fatto l'ultimo Mi hanno mandato Degli infermieri E degli ossi Però in numero Insufficiente E i medici arrivano Aspettiamo Poi vediamo come finisce la situazione Quella lotta completa Io continuerò a lottare Finché riesco Finché non perdo Perché è una stanchezza È 12 ore Ora stamattina Ho dovuto fare altre cose Quindi Credetemi che lo stress Si sente dopo Ecco Quindi questo chiedo agli amministratori Io sono positivo Penso che faranno bene Sia la triade Con cui ho già parlato Per le varie problematiche E penso Che anche lui Che ho conosciuto stasera Perché nella prima riunione È andato il dottore Ceratti Al mio posto Perché non Non parlerò niente di negativo Perché secondo me Il negativo Genera altro negativo La cosa importante È parlare in positivo Perché esistono diverse verità E quelle che vengono fatte credere Come stanno le cose Non sono poi così brutte Come vengono C'è la tendenza A far pensare le cose Eccessivamente Al brutto Al terribile Io non la vedo così Io sono Forse per mia natura Sono ottimista nelle cose Io mi auguro che le cose possono cambiare Che l'ospedale di Locri Venga valorizzato Se loro ce la metteranno tutte Il fatto che hanno sbloccato i concorsi Perché sono stati banditi Per diversi medici Io sono positivo Sono riuscito a farlo loro Non l'ha fatto nessuno Quindi evidentemente sì Sono con l'architetto Galletta Responsabile dell'ufficio tecnico Dell'ospedale di Locri Architetto Siamo al pronto soccorso Le criticità del pronto soccorso Le criticità del pronto soccorso Sono legato al fatto che Già le superfici Non sono sufficienti Per poter allocare Tutti i servizi necessari Tant'è vero Nel progetto di ristrutturazione Che si sta facendo Sulla cosiddetta greca Il pronto soccorso Sarà allocato lì Questo Verrà abbandonato E fatto un pronto soccorso A norma Sempre annesso Alla struttura di Locri Alla struttura di Locri Sì E quindi cosa prevede Il nuovo progetto Anche nuove assunzioni C'è un A parte il progetto tecnico Anche qui c'è bisogno Di nuove Ci sarà anche una piccola sala operatoria Legata al pronto soccorso Quindi scaricando di peso Anche il blocco operatorio Quindi per i piccoli interventi Ci sarà anche un'attività chirurgica Legata al pronto soccorso L'ospedale di Locri È un bene comune Non bisogna imputare Tutte le problematiche Al commissario di turno Oppure ai dottori È vero Ne parlavamo prima Che ci vuole anche più civiltà Da parte dei cittadini Cittadini e degli utenti Spesso registriamo purtroppo Degli atti vandalici Qualcuno si porta via un estintore Qualcuno rompe il pulsantiere Degli ascensori Abbiamo dovuto attivare La videosorveglianza Degli ascensori Perché c'erano dei guasti continui Adesso Un po' Sono Regrediti come fenomeni Proprio perché Videosorvegliato Quindi La raccomandazione che si fa Al cittadino È di avere più cura Di una struttura Che comunque È a servizio di tutti Architetto mi dà dei tempi Sul progetto Allora il progetto Che riguarda comunque Il 22% della superficie Dell'ospedale Non di tutto l'ospedale È la cosiddetta greca Fra una settimana Verrà consegnata Alla triade commissariale Lo studio di fattibilità Dopodiché ci saranno Altri due step La progettazione esecutiva E poi i lavori Col decreto Calabria Approvato dal governo La stazione appaltante Non sarà più la sua Ma in vitali Oltre soggetti Individuati dalla triade commissariale Sarà dalla commissione Individuare il soggetto Che si occuperà Delle gare Quindi i tempi Come verrà fuori L'ospedale di Locri Quando tutti i progetti Saranno completati Le dicevo È solo una parte Della superficie Dell'ospedale L'ospedale ha una superficie Di circa 40.000 metri quadrati Coperti E noi ci occuperemo Di quasi 10.000 metri quadrati Il resto Non è oggetto Di finanziamento Purtroppo Abbiamo prodotto Dei progetti Dei richiesti di finanziamento Negli anni Però non hanno trovato Come dire Il giusto accoglimento Non sono stati finanziati E la greca È finanziata Per 14 milioni E mezzo di euro Quindi il 22% Delle superficie Verrà completamente Messa a norma Lì troverà Allocazione Il nuovo pronto soccorso Realizzato con tutti I crismi di legge Siamo al pronto soccorso Con la dottoressa Garreffa Dottoressa Che situazione c'è All'ospedale Al pronto soccorso Dell'ospedale di Locri Guardi La situazione Noi abbiamo Come le posso dire Gli afflusso abbastanza Non indifferente Per il bacino di utenza Che tutti sappiamo Cerchiamo di Di dare Diciamo Di essere Abbastanza Come dire Abbastanza positivi No Abbastanza positivi Abbastanza Oh no Diciamo In emergenza In urgenza Cerchiamo di fare Del nostro meglio E Diciamo che Riusciamo Riusciamo Perché Per ora Anche Grazie Al nostro Direttore Al nostro primario Il dottore Forte Che ci ha Diciamo E' riuscito E' riuscito A sollevare E a dare Al nostro Pronto soccorso Delle Diciamo Delle Diciamo Delle Le barelle Ha fatto Arrivare Diciamo Delle nuove No Oltre al personale Nuovo Anche Infermieristico Anche Diciamo In forza Qualche Medico Riusciamo A sopperire Al bacino Di utenza Ripeto E alle grandi patologie Gravi patologie Che ci sono E che ogni giorno Noi siamo Qua Tenuti A curare E quindi La fascia oraria Più critica La fascia oraria Diciamo Che non c'è Una fascia oraria Più critica In quanto Essendo Un pronto soccorso Ci può essere Quel momento Di calma Che comunque In ogni Oppure Quella Emergenza O maxi Emergenza Da un minuto All'altro Ecco Adesso siamo Un po' In una situazione Di calma Però Da un momento All'altro Ecco In un pronto soccorso Non si può dire Per quanto riguarda Adesso Soprattutto In estate Le 10 Le 11 Mezzogiorno Ecco O le 6 Le 5 Del pomeriggio Però ripeto Questo è una Diciamo Ecco Sono delle Fatalità Siamo con il Dottor Michale Del 118 Dottore Che turni Di lavoro Com'è la situazione Per il 118 Come i turni Sono normali Sono fatti Rispettando le regole Quello che Su questo Non possiamo dire Che sono fatti Diciamo A norma Quello che Sia l'unitivo europeo Quello che Si rispettano Diciamo Le regole Il problema Il problema È la carenza Del personale Che c'è Ci mancano I infermieri Mancano Autisti I mezzi I presidi Per poter lavorare I locali Che non sono neanche I doni A poter lavorare Più di una volta Ci siamo lamentati E nessuno È mai venuto A vedere Abbiamo scritto Non sappiamo A chi scrivere Non sappiamo A chi ci dobbiamo rivolgere Quindi la triade commissariale Sta cambiando E da tre mesi che lavora Sta cambiando Un po' di cose Che si erano accumulate All'interno dell'ospedale E anche Sta cercando di risolvere I problemi col personale C'è un appello Che vuole fare i commissari Che si sbrigano Che si sbrigano Perché ancora qua Non abbiamo visto i cambiamenti Stiamo lavorando Ci stiamo massacrando Sta arrivando l'estate L'ambulanza di emergenza Viene sottratta Alla popolazione Viene mandata Per trasferimento Per diagnostica Manca dal territorio Si può considerare Che il 30% Degli interventi Viene fatta Per trasferimenti E fare diagnostica Trasferimenti per cosa? Allora Da questo ospedale In un altro ospedale E diagnostica invece? Diagnostica La radiologia La TAC A volte la radiologia Non funziona Perché non funzionano ancora? Funziona Sì O perché non funziona Perché non c'è personale Non ci sono i medici I radiologi Per poter Diciamo Lavorare E quindi Ci troviamo In questa situazione Siamo sul lungomare di Locri Per raccogliere adesso Le opinioni Della gente Tanti servizi Contro Si è parlato Tanto E male Dell'ospedale di Locri Addirittura Si vociferava Alla chiusura A un certo punto Che però Questo rischio Chiaramente Non si corre Quanto è importante L'ospedale di Locri E quanto è importante Il lavoro Che stanno facendo I commissari Importanti sarebbero Tutti gli ospedali Basta che andrebbero Come dovrebbero andare Se capisci che Sono importanti E quindi Quanto è importante Il lavoro Che stanno facendo I commissari Che si sono insediati Tre mesi fa Per cercare di Migliorare La nostra struttura Ospedaliera Questo sinceramente Non saprei dirvi Perché non sapevo Nemmeno che ci stavano Questi che sono Andati in ospedale Per fare Non era il giornato Ho sperimentato Direttamente Perché in una circostanza Particolare Mi sono dovuta Recare in ospedale E diciamo Che sono stata Trattata benissimo Quindi la mia esperienza È positiva Nonostante Voglio dire Le grosse difficoltà Tutto quello Che c'è Intorno All'ospedale Ma la disponibilità Sicuramente Dei medici La disponibilità Del personale Infermeristico Sono tutti Almeno io Questo ho riscontrato Brave persone Disponibili E ospitali Ecco questo Io riscontro Certo la struttura È quella che è Carente per molti aspetti Non ho nessuno Non ho nessuno Non ho nessuno Che lavora là Però mi sono rivolta Ad un medico Che io non conoscevo Gentilissimo Mi chiama ancora oggi Perché ha avuto un problema A mio marito Mi chiama ancora oggi A casa Per dirmi come sta Che cosa Quindi voglio dire Le cose dovrebbero andare Un po' meglio Di come stanno andando E che la politica Si impegni un po' di più Per Locri E per i cittadini Locrese Che meritano Un po' di più Di quello che hanno Perché Quindi quanto è importante L'ospedale? L'ospedale è molto importante Per tutti Perché tutta poi Alla fine abbiamo bisogno Solo che L'impegno è stato Veramente molto Molto scarso Che cosa deve migliorare L'ospedale L'ospedale dell'Ocri In tutto Io ho avuto Un modo di Conoscere L'ambiente ospedaliero Per lavori E anche qualche volta Per necessità Non sono stato mai soddisfatto Sono andato a trovare I medici Per una semplice Allergia Alla pelle Mi hanno mandato Per quattro volte In farmacia A comprare Medicina Con soldi Pomate Che non servono niente Che sono solo Pagliativi Alla fine mi hanno mandato Da un medico privato Ad Ardori Marina Posso dire anche il nome Perché è l'unico medico Per la pelle Io avevo Solo un'infiammazione Della barba Dall'anno che poi Mi è amico pure Che lo conoscevo Da giovane Alla fine Ho dovuto andare là Nonostante Che la La sede Dell'ospedale di Locri C'è scritto lì fuori Primario Pincopallino Senza fare nome Se volete Lo sapete Chi è Ho dovuto aspettare Delle ore Perché è stato Tutto chiuso La prima volta Mi ha dato una medicina Una pomata Pagliativa Che non serviva A niente La seconda volta La stessa Un altro Un altro nome Ma la stessa cosa Alla fine mi ha detto Ma è meglio Che vai dal Dermatologo E perché tu non sei Un dermatologo Evidentemente Non è un dermatologo Per me L'ospedale di Locri Funzionerebbe Se ci fossero Un altro tipo di persone Nel senso che Alcuni reparti Funzionano Altri Non funzionano proprio E i macchinari Sono a volte sporchi E a volte Ad esempio Una mia amica Ha raccontato come Per un macchinario sporco È andata a Milano Perché le hanno identificato Un cancro E invece Non era un cancro Era solo il macchinario sporco Quindi Bisognerebbe cambiare qualcosa Nelle pulizie Nelle persone che ci sono Nella gestione Sì Tutto qua Compreso la politica Compreso tutta la popolazione Perché è un bene Che 30 anni fa Giustamente Funzionava E ce la mantavamo Oggi non c'è ospedale E siamo allo sbando Dobbiamo viaggiare Dobbiamo fare O a Reggio Calabria O in Alt'Italia Questo è Certamente Siamo sul lungomare di Ardore Con il signor Catanzariti Signor Catanzariti L'ospedale di Locri Quanto è importante E che situazione vive Nella Locride È importante Perché è punto di riferimento Per tutti questi paesi Per quanto riguarda Il servizio medico È ottimo Manca l'organizzazione Mancano le strutture Mancano i mezzi Manca tutto Ci sono soltanto Tanti Tanti ammalati Che non sicuro Che bisogna andare al nord O in altre strutture Io sono stato L'altro giorno Perché ho avuto un problema Con un mio nipote Che ha avuto Un incidente È stato a Germaneto È un ospedale Che fa onore Alla Calabria Ho visto la professionalità La disponibilità Qua non è questione Qua è una questione Anche di cultura Il medico Se sa Deve fare il medico Se non sa Non lo deve fare Con la salute Non si scherza Punto E basta È bene la Calabria Migliorarlo Il primo doveroso È ringraziare il dottore Raimondi Portavoce Della triade Commissariale Di Reggio Calabria Che ci ha accompagnato Nel viaggio Nei reparti Attraverso L'ospedale Di Locri Abbiamo tanti amici Che ci scrivono Tanti sponsor Tra questi Pisciuneri Di gomme Di gomme di roccella Che salutiamo E ringraziamo E poi chiaramente L'amico Eugenio Blefari Che è direttore Regista Camera Che è il cuore E la mente Di Vox Populi Siamo molto stanchi Siamo molto stanchi Questa sera Perché è stato difficile Far collaborare la gente Quindi forse Questo è il paradosso Si parla tanto Dell'ospedale di Locri Tante volte con servizi Anche abbastanza scandalistici Ci si lamenta Però forse Non si combatte assieme Allora vorrei prendere Le parole di qualcuno Di quelli che sono intervenuti E anche le cose più belle Che hanno detto i dottori E lo stesso Dottore Raimondi Forse se questa lotta L'avremmo fatta negli anni Tutti assieme Non si sarebbe arrivata oggi A questo punto Quindi io vi saluto Con questo appello E naturalmente Ci vediamo la prossima settimana Con un altro argomento E altre interviste Quest'estate non si dorme Me la bevo come un cocktail Questo ritmo che mi muove I problemi sono altrove Le cuffie sulla testa Viaggio sotto l'ombrellone Prendiamoci le stelle Che il resto non ci serve Uscire e fare le sette E voglia di andare più forte Non ci basterà questa notte Voglio vedere le luci dell'alba Cambiare il colore Voglio ballare con te Soltanto con te Non chiedo la luna Ma ballo con te Lasciamoci tutto alle spalle Io e te Fino a che nasce il sole Spingo tutto per due ore Che mi scorda anche il mio nome Bevo birra con limone Senza ghiaccio per favore Andiamo non so dove Diplomiamoci in hangover Scottiamoci la pelle Poi cambiamoci il colore Prendiamoci le stelle Che il resto non ci serve Almeno fino al settembre E voglia di andare più forte Non ci basterà questa notte Voglio vedere le luci dell'alba Cambiare il colore Voglio ballare con te Soltanto con te Non chiedo la luna Ma ballo con te Lasciamoci tutto alle spalle Io e te Prima che nasce il sole Le giornate così lunghe Noti sempre troppo corte Che ti svegli sulla spiaggia Col rumore delle onde E mentre la notte finisce Dimmi che male c'è Se mentre ballo con lui Io penso ancora a te Voglia di andare più forte Non ci basterà questa notte Voglio vedere le luci dell'alba Cambiare il colore Voglio ballare con te Soltanto con te Non chiedo la luna Ma ballo con te Lasciamoci tutto alle spalle We talk for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay And leaving getting a taxi Kissing the backseat Tell the driver Make the radio play And I'm singing like Girl you know I want your love Your love was handmade For somebody like me I'm coming now Follow my lead I may be crazy Don't mind me Say boy Let's not talk too much Grab on my waist And put that body on me I'm coming now Follow my lead I'm coming now Follow my lead Mmm I'm in love with the shape of you We push and pull Like a magnet do But what my heart is falling to I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body I'm in love with the shape of you Come on be my baby Come on Come on, be my baby, come on